Molti di voi mi chiedono perché combattro per l'Italia e perché non posso combattere per il mio paese, per la mia Ucraina. Perché non posso più salvare l'Ucraina. L'uomo miserabile e i pagliacci Zelensky l'ha venduta agli americani. L'Ucraina, fra la fine dell'Ugoslavia, sarà smembrata in molti parti. Mentre voi, italiani, nonostante siate già stati venduti, avete ancora la speranza. E combattendo, potete ancora riavere la vostra Italia e la riavrete.